Nell'anno delle celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia, il Bookshop del Consiglio regionale del Piemonte ha venduto oltre 3.500 bandiere tricolore. Tra i gadget istituzionali più richiesti, le penne da portare al collo, i portacellulari, i postite e i quaderni. Realizzato sull'esempio prestigioso della Camera dei Deputati e nell'ottica dello sviluppo della cultura e dell'accoglienza, il Bookshop del Consiglio regionale ha sede presso l'URP in via Arsenale 14G a Torino. Si possono acquistare anche le pubblicazioni edite dall'Assemblea regionale, volumi sulla storia, l'architettura e l'arte di Palazzo Lascaris. Il Bookshop è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.